Sta per andare in onda Pianeta Oggi e eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera, sono 19.01, buonasera dalla redazione di Pianeta Oggi TV, ai microfoni Massimo Bonella, dunque prima di dare la linea a Alviano Appi a Pordenone, vedo come di consuetudine darvi alcune notizie. Allora, purtroppo le notizie ci sono anche di cronaca, di cronaca seria. Andiamo alla tragedia del Pollino, che era una tragedia prevedibile, c'era infatti l'alerta gialla, e con l'alerta gialla ci possono essere dei morti. Infatti, c'era l'alerta gialla, e ricordo a tutti che con l'alerta gialla ci possono essere dei morti. Queste le parole testuali del capo della protezione civile Borrelli sulla tragedia avvenuta in Calabria. Quanto avvenuto, ha detto ancora Borrelli, era in qualche modo prevedibile. Dunque, allora, quali sono le ultime notizie? Sarno ha dieci i morti per la piena del torrente Raganello dopo un fortissimo temporale nel Parco Nazionale del Pollino nel Cosentino. Undici i feriti, tra cui una bimba di nove anni in prognosi riservata al Gemelli di Roma. Tre giovani pugliesi, dati per dispersi, erano invece accampati in una zona a monte di quella della Sciagura. Le vittime provengono da Calabria, Puglia, Lombardia, Campania e Lazio. I soccorritori continuano a ispezionare la zona. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione, omissione, atti d'ufficio. Il ministro dell'Ambiente Costa dice, occorre capire se chi doveva fare qualcosa l'ha fatto. L'Italia è stanca di piangere i morti. E infatti passiamo ad un'altra terribile immane strage. Genova, una delle città, come anche ricordiamo Bologna, che è stata anche negli anni precedenti colpita abbastanza fortemente. Allora, Genova, mentre si attende di sapere quali decisioni saranno assunte sul moncone est del ponte Morandi, da cui nei giorni scorsi, lo ricordiamo, sono stati uditi provenire degli scricchioli e che hanno spinto a fermare le operazioni di recupero di oggetti personali dalle case evacuate, sono stati celebrati i funerali di Mirko Vicino, ultima vittima recuperata del crollo. Stamane sono state consegnate le prime cinque case a famiglie con bimbi piccoli e persone non autosufficienti, tra gli sfollati del crollo. Nel pomeriggio consegnati altri sei alloggi. Nessuno deve rimanere indietro, così su Twitter aveva scritto il governatore Totti. C'è a tale proposito una interessante rassegna stampa su Antimafia 2000, un articolo che avevamo riportato anche noi, dal titolo La strage di Genova del Ponte Morandi e adesso Arrestati Benettona. Questo articolo è stato scritto dal direttore di Antimafia 2000, dove facciamo una sintesi, adesso vediamo un po' se anche leggerlo tutto, perché non è proprio tanto lungo, allora possiamo dunque concentrarsi un attimo, approfondire un attimo, allora ci complimentiamo con il governo Conte per aver tolto la concessione per le autostrade ai fratelli Benetton dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, che a martedì 14 agosto ha causato ben 43 morti. Ora però aspettiamo che venga data alla magistratura la possibilità di indagare a fondo sulle responsabilità di questa evitabile tragedia ed arrestare i Benettona per un omicidio colposo, articolo 585, reato che una volta provato può prevedere fino a 15 anni di carcere. Difficile pensare che Benettona, capo di Aspi, autostrade per l'Italia, non abbiano responsabilità, dal momento che malgrado l'allerta e la segnalazione della pila 9, poi crollata, non si è messo in sicurezza il ponte. Ancora una volta i Benettona si sono dimostrati avidi di denaro, non attenti al fatto che lasciare il ponte in quello stato poteva portare alla perdita di vita umane. Un modus operandi che sembra caratterizzare spesso il business di questa famiglia imprenditoriale veneta. Un esempio è la vergognosa ingiustizia che la Benettona sta continuando a imporre al popolo di una regione in Argentina, Mapuche, a Mapuche, sottraendogli le terre in cui da millenni il popolo antico vive. Terre che negli anni 90 la famiglia Benettona acquisì, grazie all'allora presidente Carlos Menem, ad un prezzo irrisorio, confinando i Mapuche in zone marginali e improduttive o costringendoli alla migrazione nei centri urbani. Nel 2007 però il popolo nativo della Pantaronia decise di recuperare il suo territorio accessrale e per anni ha dovuto affrontare continui e violenti tentativi di sgombero nonostante più tardi del 2014 l'Istituto Nazionale degli Affari Indigeni, INAI, riconobbe il diritto dei Mapuche o Mapuche sul territorio. Basterebbe questo per dire che l'impero Benettono è uno dei peggiori esempi dell'imprenditoria italiana. Un'imprenditoria che ci fa vergognare di fronte al mondo intero per la mancanza di etica, un disastro del Ponte Morandi in cui sono morti i connazionali dei Benetton. Avvenuto nell'autostrada 10, pagata come tutte le autostrade italiane, fior di quattrini dagli italiani affinché sia garantita una viabilità sicura. Conferma un sistema imprenditoriale concentrato nell'arricchimento personale senza alcuna attenzione alla sicurezza delle persone. Speriamo quindi che questo sistema venga bloccato dal governo e che i Benettono abbiano modo di riflettere in carcere sulle vite spezzate che si potevano preservare con i giusti interventi invece che servire il freddo denaro. Questo è l'articolo che trovate all'interno della testata antimafia 2000 ripreso anche dalla nostra redazione. Abbiamo adesso un'ultima notizia. c'è stata una scossa di terremoto abbastanza forte. La gente l'ha sentita. Qualcuno è sceso anche nelle strade. Sono in corso delle verifiche per vedere se ci sono dei danni. Una scossa di terremoto dove l'epicentro è stato vicino a Reggio Emilia. Vediamo come ha dato la notizia il resto del Carlino. Vediamo la home page. Terremoto a Reggio Emilia. Positivo il sopralluogo del sindaco di Bagnolo. Paola Casali ha affermato che al momento non si registrano danni strutturali e neppure conseguenze alle persone. L'articolo poi prosegue. C'è anche una fotografia. Terremoto a Reggio Emilia scossa di magnitudo 3.9 con l'epicentro a Bagnolo. C'è altra testata che hanno portato 4.1, chi 4, qui noi apprendiamo 3.9. In questi ultimi anni questi magnitudi non si capisce bene, vengono ritoccati. Non c'è mai una certezza. Brevemente, a Bagnolo, siamo in provincia di Reggio Emilia. 21 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 2.33 della notte con l'epicentro a Bagnolo in piano, nella bassa reggiana. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato il sisma a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita nitidamente in tutta la zona. Dalla città a Capulogo fino alla bassa, così come nelle province limitrofe, fin nel Bresciano e nel Veronese. Paura anche nei vicini comuni modenesi e nella stessa Modena, dove la scossa è stata distintamente avvertita. Sono le ore 19.10. Penso che sia giunto il momento di dare subito la parola ad Alviano Appi, collegato via Skype da Pordenone. Naturalmente saluto alla regia centrale Rosario Moreno, che è anche l'editore di Radio Sai UZTU. Io vi sto parlando qui della redazione di PianetaOgitv.net da Venezia. Allora, Alviano, intanto nel darti la lina, ti chiedo quale argomento avevi preparato per oggi? Sì, l'argomento odierno è sull'energia atomica, sull'energia nucleare e ha un perché. Siamo nel mese di agosto, e nel mese di agosto 1945, l'uomo per la prima volta ha lanciato degli ordigni nucleari su dei suoi simili. Abbiamo ascoltato circa dieci minuti di notizie che hai dato tu un momento fa e abbiamo visto come la situazione nel pianeta sia per volontà umana sia per ordine naturale sia particolarmente difficile. prima di andare avanti con l'argomento, visto che tu hai dato questo tipo di notizie, Massimo vorrei anche aggiungere per chi ci ascolta che è per lo più l'uomo comunque che fa in modo che le cose naturali dopo si presentino con particolare gravità. e magari nel corso della trasmissione riusciremo anche a capirlo. Bene, l'intenzione, io in questa trasmissione darò parecchi dati, mi immagino anche che molte persone che ci ascoltano, moltissime persone che ci ascoltano non erano nate e questi eventi sono ormai lontani dalla memoria anche perché nello studio della storia contemporanea difficilmente i giovani di oggi arrivano alla seconda guerra mondiale. e quindi darò diversi dati, darò diverse informazioni sulla forza atomica, sulla forza nucleare e allo stesso tempo con l'intenzione però di arrivare un poco alla nostra coscienza interiore, cercare di capire che cosa vuol dire avventurarsi in terreni che conosciamo molto poco. Ecco, Viano, scusami, per fare un attimo di panoramica per il successo, allora possiamo intanto identificare che di energia atomica abbiamo di due tipi, non ci può abilitare, poi anche quella a uso più civile. Sì, certo. Ecco, tu adesso inizi a considerare quella di tipo militare. Di tipo militare. Partiamo proprio dagli eventi dell'agosto del 1945. Diciamo, per dare giusto un'idea come mai si arriva in un tempo abbastanza breve quando gli scienziati alla fine degli anni 30 non ritenevano, minimamente sospettavano che si potesse avere uno scenario di tale potenza come quello scaturito dall'energia nucleare in un lasso di tempo abbastanza breve 6-7 anni si arriva alla costruzione di questi ordigni. Tutto nasce un poco da un timore di una persona potremmo dire Albert Einstein che sapeva che il Terzo Reich sta facendo importanti studi sull'energia nucleare. e il suo timore che loro potessero arrivare a costruire una bomba estremamente potente molto più potente di quelle che erano in uso al tempo lo spinse ad invitare il presidente americano Roosevelt di affidare ad Enrico Fermi all'italiano Enrico Fermi al fisico ungherese Leo Sillard che stavano congeniando qualche cosa di particolare di dare sufficiente aiuto economico spinta a quello che è diventato il progetto Manhattan che poi aveva portato alla prima esplosione nucleare che avverrà nel deserto del New Messico a Bambu Bordo nel 1945 nel mese di luglio e qui c'è diciamo che gli americani fanno esplodere la prima bomba la prima bomba si chiamerà Trinity gli danno un nome un po' Trinità Trinità l'uomo che sfida un po' Dio e spero che nel corso della trasmissione di riuscire a passare anche questo messaggio non è un nome scelto a caso questo di Trinity ebbene bisogna però dire per inciso che alla fine del 1944 cioè quasi un anno prima i servizi segreti americani sanno che la Germania non è in grado di costruire una bomba atomica pure questa notizia viene totalmente sottaciuta per non impedire la corsa ormai avviata dall'America dagli Stati Uniti e d'America nel realizzare questo ordigno ebbene nel il 6 agosto del 1945 viene gettata sulla città di Hiroshima la prima bomba atomica di circa 15.000 chilotoni per chi ci ascolta un chilotone è pari a mille tonnellate il tritolo viene preso come metro di misura per calcolare la potenza degli ordigni quindi questa bomba avrà una potenza di 15 chilotoni quindi di 15.000 tonnellate di tritolo raderà al suolo la città di Hiroshima moriranno circa 180.000 persone e tre giorni dopo ne viene fatta esplodere un'altra la prima bomba atomica sarà chiamata Little Boy e la seconda sarà chiamata Fat Man e cadrà sulla città di Nagasaki e anche qui distruggendo la città facendo circa 90.000 morti al momento poi sappiamo che le radiazioni radioattivo causerà anche molte altre vittime per problemi di leucemia cancro alla tiroide e malformazioni genetiche e via dicendo quello che viene detto per scusare l'uso di queste bombe violentissime su delle popolazioni è stato quello che così la guerra se sarebbe continuata avrebbe fatto più vittime adesso non stiamo ad analizzare i se e i ma chi pensa in un altro modo dice che era per fermare gli attacchi che erano partiti in Manciuri il Giappone da parte dell'Unione Sovietica e per non permettere quindi l'Unione Sovietica di avere la voce troppo grossa quando si sarebbe fatta la pace comunque stiano le cose per la prima volta vengono usate su esseri umani questi impegni però da lì Massimo subito dopo inizia una una corsa a teste nucleari che vengono fatti indiscriminatamente sul suolo sugli oceani nel sottosuolo nella stratosfera inizia veramente un incredibile il primo test atomico americano l'abbiamo detto a Trinity nel luglio del 45 gli americani faranno oltre mille test nucleari in tutto finora ne sono stati fatti 2056 non so se sono stati calcolati gli ultimi piccoli test fatti da in in Corea del nord ad ogni modo poi la Russia comincia a fare il suo test e il primo è in Kazakistan nel 1949 la Russia ne farà oltre 700 poi non manca il Regno Unito che le farà a Montebello Island a largo della costa orientale australiana c'è il primo esperimento numerare inglese che è della potenza di 25 chilotoni e siamo ancora nell'ordine dei chilotoni poi per parlare dei paesi che sono i primi cinque paesi dotati dall'arma atomica la Francia lo farà nel 60 e lo fa nel deserto del dell'Algeria nel deserto algerino nel 60 e qui abbiamo una potenza di 70 mila di 70 mila tonnellate di tritolo e viene fatto questi esperimenti guardate bene vengono fatti per lo più in casa d'altri nell'oceano pacifico l'oceano indiano gli inglesi nell'oceano pacifico gli americani dopo ne faranno anche molti nel sottosuolo a casa loro gli americani per ultima voglio ricordare la Cina che fa un esperimento nel 64 questi sono i cinque grandi paesi però dopo giungeranno come sapete anche l'India il Pakistan Israele e non ultima appunto ultima la Corea del nord questo è un poco lo scenario di questa di questi esperimenti che ne sono stati fatti 2.056 ma sì sì di più una domanda così rapida no io ricordo che seguivamo nel 96 ancora Radio Treviso 103 gli esperimenti che la Francia stava facendo sull'attolo di Murora un paradiso esatto ecco allora ci spiegava un po' quali erano le conseguenze per tutto diciamo il pianeta all'epoca il dottor Costantino Paglialunga un fisico che poi si è ritirato ecco possiamo riprendere un attimino quel discorso eccoci poi un attimo illustrare quali conseguenze per il pianeta si parlava addirittura a problemi che potevano reccare all'asse magnetico terrestre quindi andare a creare delle difficoltà per quanto riguarda la regolarità delle stagioni e insomma c'erano un po' questi altri invece sempre persone della scienza dicevano l'esatto contrario che si verifica semplicemente un piccolo terremoto di magnitudo o due o tre poi a seconda dell'intensità del test atomico lì sul posto e poi tutto va a finire e qui vorrei ricordare il concetto che vorrei far emergere che ti chiedo che tu sei appunto documentatissimo cioè che non è come far scoppiare una dinamite una carica di dinamite ma è ben alto ecco a te la parola allora guarda benissimo fai a ricordare che non si tratta di una carica di dinamite perché faccio un piccolo inciso su quello che hai detto tu adesso noi abbiamo abbiamo parlato di chilotoni e abbiamo parlato di esplosioni nucleari ma poi gli sono spinti più in là e hanno fatto delle esplosioni termonucleari l'esplosione nucleare scinde gli atomi di uranio o di plutonio in due atomi di peso inferiore liberando energia la reazione termonucleare costringe vincendo la forza elettromagnetica costringe due atomi leggeri a fondersi in un atomo più pesante liberando moltissima energia è necessaria la forza il grandissimo calore di una bomba atomica per rinnestare una bomba termonucleare così sono state le bombe termonucleare voglio dare giusto due cifre perché sembra che si parli del nulla ma dobbiamo capire la potenza di questi ordigni la prima bomba termonucleare l'hanno fatta esplodere nella zona delle isole Marshall gli americani nel 1952 la bomba viene chiamata Mike ha una potenza di 10 megatoni cioè vuol dire un megatone sono un milione di tonnellate di tritolo ecco quasi 800 volte la potenza della bomba di Hiroshima e vengono spazzate via degli atolli che stavano intorno a quello nel quale è stato fatto l'esperimento e la Russia risponderà nel 1961 con una esplosione a largo della cioè nella nella nuova nell'arcipelago della nuova Zemblia nel circolo polare artico viene fatta esplodere per fortuna all'altezza di 4000 metri se fosse stata esplosa al suolo avrebbe avuto una ripercussione violentissima e inimmaginabile non sappiamo quanto la potenza è stata di 50 milioni di tonnellate di tritolo 50 chilotoni e si sono rotti i vetri delle finestre a 900 chilometri di distanza e la luce dell'esplosione si è vista è stata vista a mille chilometri di distanza è stata percepita l'onda d'urto su tutto il pianeta la bomba si chiamava ZAR allora diciamo che fino dagli anni 70 si era capito che tutti questi chilotoni di megatoni di energia nucleare che cosa che cosa causavano intanto gravissimi gravissimi agli embrioni umani gravissimi problemi di leucemia gravissimi problemi alla tiroide deformazioni delle persone che nascevano dobbiamo dire che questa ecco queste situazioni di deformazione in qualche modo ecco vorrei spostare l'attenzione su questo sono un po' un indice della deformazione dell'animo degli scienziati che degli scienziati e dopo dei politici e dei militari che fanno queste cose cioè l'uomo viene messo come allo specchio delle sue azioni ciò che è deforme dentro di lui pensa immagina e crea ciò che dopo appare deforme nella vita intorno a lui dobbiamo dire che per l'uranio impoverito anche nell'Iraq che ha avuto due guerre dagli anni 90 ad oggi una nel 91 uno e l'altra mi sembra nel 2003 se mi ricordo bene sono moltissimi i casi di tumori e di nascite di bambini totalmente deformi queste sono le cose più gravi che possono capitare ad una famiglia io lascio immaginare chi ci ascolta che cosa succede ciò che fa impressione comunque è che già dopo le prime esplosioni atomiche c'era un premio Nobel per la medicina Herman Muller che aveva parlato chiaramente di questi grandi danni fisici biologici e anche ambientali all'ambiente alla natura agli animali e alla carina alimentare che avvengono con il fallout radioattivo ebbene Herman Muller premio Nobel per la medicina viene più volte tacitato dalla EIC che è la commissione atomica per l'energia cioè la commissione atomica per l'energia nel 1955 a Ginevra alla conferenza per la pace viene impedito ad un premio Nobel di parlare dei dati delle conclusioni alle quali lui era arrivato e come controaltare Massimo dall'altra parte c'erano scienziati come Eduard Teller che ha contribuito alla costruzione della bomba atomica che diceva che il pulviscolo radioattivo poteva causare un torno come quello di due sigarette al mese fumate al mese poi sappiamo che agli inizi ecco qui dobbiamo fare una considerazione sulla scienza che serve qualcuno o sulla scienza che parla in libertà perché Teller è uno scienziato che che lavora per i potentati militari e quindi sostiene delle cose che poi in tempo si sono assolutamente dimostrate totalmente totalmente false capisci quindi questo atteggiamento della scienza è incredibile anche quello che aveva sostenuto in qualche modo anche Enrico Fermi che in una discussione si dice che in una discussione se era bene impiegare o no simili ordigni lui un po' infastidito avesse replicato lasciatemi in pace con i vostri rimorsi di coscienza questa l'atomo è una fisica così bella ecco una fisica così bella che però produce io personalmente penso che non ci debba essere limite al fatto che l'uomo cerchi di capire come funziona la natura però allo stesso tempo penso che ancora prima ci debbano essere dei limiti precauzionali e dopodiché ci dovrebbe essere l'interrogativo personale ma io cosa ne faccio di questa scoperta la uso per il bene di tutti oppure la uso contro qualcuno perché il pericolo di oggi è un pericolo molto grande il professor Paglialunga era anche un professore che aveva conosciuto Eugenio Siracusa Eugenio Siracusa è stato un contattato degli extraterrestri proprio in quegli anni in cui gli esperimenti atomici erano assolutamente folli se ne faceva uno per settimana ne abbiamo fatti 2056 come ho detto prima e quindi diciamo che Eugenio Siracusa aveva ricevuto nell'anno 63 1963 aveva ricevuto un dettagliato messaggio da parte degli extraterrestri che erano che in quegli anni si facevano vedere nei cieli di tutto il mondo adesso chi ci ascolta magari dirà ma questi che cosa dicono in realtà basta approfondire ricercare un poco si vedrà che sui quotidiani di mezzo mondo del tempo c'erano moltissime informazioni sull'avviso di oggetti identificati volanti non identificati il messaggio degli extraterrestri è stato a quel tempo pensa che dettagliato che era nel 1963 gli extraterrestri intanto accusano l'uomo di agire con un egoismo a loro inconcepibile di avere un di infantilismo ci accusano e usano una serie di aggettivi adesso mi sarebbe piaciuto avere la pagina di Eugenio Siracusa qui davanti per citare gli aggettivi che gli esseri preoccupati da altri mondi danno all'uomo bene comunque dicono è bene che siate riusciti a mettere al bando nel 1963 vengono messi in bando gli esperimenti nella stratosfera e quelli sugli oceani e al suolo pensate che gli esperimenti sulla stratosfera vengono fatti quando l'uomo comincia la corsa sulla luna vengono scoperte le fasce di Van Allen si scopre che la terra in qualche modo è protetta da questi fasci di elettroni di ioni particolari che la dei venti solari dalle radiazioni raggi gamma raggi ultravioletti eccetera questa fascia denominata di Van Allen perché era lo studioso che seguiva le sonde Pioneer Explorer che per la prima volta noi mandavamo nello spazio intorno al nostro pianeta bene queste queste fasce vengono colpite nel 1958 da tre test atomici uno dietro l'altro nel sud dell'oceano atlantico nel sud dell'oceano e dopo ve ne sarà fatto un altro nel sud dell'oceano pacifico dico questa cosa sottolineo la parola sud perché noi sappiamo che nell'antartire c'è stata una parziale distruzione della fascia dell'ozono adesso ci vengono a dire che sono i CFC i gas CFC a procurare quel danno ma in realtà invece sono stati i violentissimi test atomici rispetto a quello che dicevi tu Massimo sulla possibilità anche di spostamento dell'asse terrestre bene dobbiamo dobbiamo dire che se questo non è provato è provato però il dato statistico che da quando sono iniziati i test nucleari i terremoti nel nostro pianeta sono aumentati di cinque volte ecco anche qui ecco anche qui si parla che i test atomici sono legati anche ad alcuni terremoti altri dicono che sono bufale ecco la gente diciamo la fin fine ha una confusione addosso quindi ecco che da parte la giornalistica meriterebbe approfondimento ecco cosa possiamo dire su questo perché io faccio sempre questo discorso qua mi metto nei panni della gente che per la prima volta sente questa trasmissione e alla fine diciamo guarda loro adesso dicono che i test tomici sono legati ai terremoti gli altri invece dicono che non è vero che sono bufale quindi c'è un po ecco per cercare di far chiarezza quali elementi possiamo dare a chi ci ascolta Ambiano? beh gli elementi che possiamo dare sono dei processi di causa ed effetto cioè io faccio scoppiare una bomba nucleare e dopo poco mi accorgo che c'è un un terremoto in adesso quello che che ti posso ti posso dire così che a distanza di di pochi giorni qualche volta di un solo giorno qualche volta al massimo di cinque e queste cose possono succedere anche a grandi distanze è provato che c'è un test nucleare e dopo uno due tre quattro massimo cinque giorni cinque giorni c'è un un terremoto in genere i terremoti che ci sono stati legati ai test nucleari sono stati quasi tutti superiori al sesto grado della scala richter per arrivare fino al 7,7 o addirittura 8,1 e queste sono notizie adesso io non sono in grado qui al momento di dare tutte le fonti ma penso che su planet earth pianeta terra se the latest weapon of war l'ultima arma di guerra si possono trovare io voglio dare a chi ci ascolta questo indirizzo si possono trovare dati che gli scienziati gli studiosi hanno messo insieme su questo tema da notare rispetto a quello che dicevo prima che gli extraterrestri hanno detto va bene è bene che voi avete smesso di fare gli esperimenti nella stratosfera guardate che cosa avete combinato e a livello del suolo ma i danni più grandi voi li state facendo con gli esperimenti nel sottosuolo mentre noi siamo in grado di ripulire ciò che viaggia nell'aria non possiamo fare nulla rispetto alle onde telluriche che una bomba atomica produce e che dopo ad un certo punto si scarica in qualche zona a seconda delle direttrici che prende dal punto dal quale parte capisci quindi io per quello che dici tu per un'informazione più completa invito le persone ad andare su planet earth the latest weapon of war e troveranno senz'altro moltissimi riferimenti perché mi ricordo di averli letti da lì tra l'altro una notizia che vorrei dare qui ad Aviano noi io sto come hai detto tu sto trasmettendo da da Pordenone tu comunque che sei a Mestre non sei molto lontano qui a Pordenone adesso ci sono state le sostituzioni delle delle bombe atomiche con le nuove B61-12 allora vorrei dare giusto una piccola informazione su questo ambito che le B61-12 sono bombe che sono portate come dai piccoli missili di lunghezza di 3 metri sono in grado di penetrare per molte decine di metri all'interno del terreno prima di esplodere con una potenza pari a 3-4 volte le bombe di Hiroshima nel sottosuolo che è quello proprio che gli extraterrestri dicevano state molto attenti anche perché voi dovreste considerare il pianeta come un uovo e la sua superficie è il guscio di l'uovo ma capite che cosa stiamo facendo stiamo prendendo a martellate il guscio di un uovo non so se in qualche modo ho reso l'idea è chiarissimo anzi decodificando ancora di più vediamo che se un extraterrestre scende in questo disgraziato pianeta vede un uomo che praticamente minaccia e distrugge la propria casa dove abita o meglio ancora va a distruggere la vita dei propri figli quindi possiamo dire che siamo alla pazzia in poche parole perché se tanto mi dà tanto questi sono i fatti eh certo dopodiché noi non siamo neanche contenti di diciamo ah l'energia l'energia nucleare beh aspetta che la uso anche a fini a fini civili a fini civile ma e anche qui i dati diciamo non sono molto non sono molto confortati non sono molto perché com'è che arriviamo all'uso dell'energia nucleare si dice che l'energia nucleare praticamente producendo vaporacque alla fine per uso per uso civile stiamo parlando non produce co2 però intanto dobbiamo pensare che produce moltissima co2 nella costruzione degli impianti questo è il primo punto che dobbiamo tenere presente il secondo punto vorrei fare una riflessione che si dice l'energia che noi possiamo ricavare dal petrolio potrebbe durare dai 30 ai 35 anni quella dal gas naturale a una durata si pensa di 60 anni quella massima che si ottiene sarebbe quella dal carbonio del carbone scusate il carbone potrebbe avere circa potrebbe fornire energia all'umanità standard più o meno attuali per 200 anni l'uranio l'uranio da cui ricaviamo l'energia nucleare non oltre i 70 anni allora perché andare a prendere un'energia finita in un tempo finita implicare grandi risorse grandi studi grandi lavori di manifattura per un'energia comunque in breve esaurimento comunque 70 anni in una proiezione energetica che dovrebbe fare l'umanità non sono per niente una grande cifra ecco detto questo dopo dobbiamo tenere conto dei grandi costi che abbiamo per lo stoccaggio del materiale fissile nucleare che dopo ci rimane dopo averlo utilizzato per produrre energia elettrica bene guarda c'è stato uno studio in Svezia che mi ha molto colpito due città svedesi si erano offerte per ospitare i siti delle centrali nucleari bene intanto sappiamo che i siti sono sostanzialmente tra devono essere siti o di saggemma o di argilla o di granito sono quelli che più danno sicurezza però in questo studio Svedevese faceva capire che uno stoccaggio di materiale fissile di 25 tonnellate è fatto di due tonnellate di materiale fissile e di 23 tonnellate di rame e cemento tutto stoccato all'interno di una caverna di una grotta di una qualche riparo di granito va comunque ricordato ma sono al sicuro queste sostanze perché devono rimanere al sicuro per molto tempo per esempio il plutonio ha un decadimento di quasi 25 mila anni 25 mila anni è il tempo che il nostro sistema solare ci mette a girare intorno a tutta la galassia e a ritornare nel medesimo punto bene 25 mila anni quali quali eventi di carattere diciamo anche naturale possiamo dire possono interessare quell'area in cui noi stocchiamo il materiale fissile e questo materiale fissile concentrato è di una natura distruttiva dirompente di cui non non abbiamo idea un grammo di plutonio è in grado di uccidere qualsiasi forma di vita all'interno di 500 metri quadrati è centomila volte più velenoso diciamo del cianuro di potassio e ne basta un milionesimo di grammo per uccidere una persona e noi vogliamo trattare con queste con queste energie e l'esempio l'esempio ne sono i casi di ci sono tre grossissimi casi diciamo di pericolo che l'umanità ha dovuto affrontare con l'energia nucleare civile che sono quelli di Trim Island nel 1979 negli Stati Uniti d'America Chernobyl nel 1986 Fukushima nel 2011 come causa di un maremoto di un terremoto di un maremoto ecco per esempio proviamo a considerare questa cosa Massimo una piccola parentesi questa dimostrazione che la grande tecnologia elettronica del Giappone di fronte alla natura non vale nulla prego esatto nel vale nulla loro che hanno un terreno notoriamente sismico hanno previsto il terremoto però non avevano previsto un terremoto accompagnato anche da un maremoto vai a capire tu la fantasia della natura quando fa le cose che deve fare perché che cosa è successo a Fukushima a Fukushima praticamente una volta partita la scorsa la reazione nucleare si è spenta automaticamente sono entrati in funzione dei generatori di energia ma i generatori di energia sono stati perché una reazione atomica dopo ha bisogno di diversi giorni di raffreddamento cioè io fermo la reazione però lì ho moltissimo calore e lo devo raffreddare bene partono dei dei generatori di energia che vengono colpiti dal dall'ondata del del maremoto quindi si rompono i i cavi le tubazioni che servono per raffreddare per continuare il raffreddamento del nucleo di 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 uranio di plutonio che fosse e quindi succede quello che succede e succede quello che succede che cosa vuol dire per 30 chilometri quadrati adesso nel raggio di 30 chilometri a Fukushima per il momento non ci sta nessuno dopo tre o quattro giorni si sono trovati in mare 4.000 volte i livelli di di radioattività che non avrebbero dovuto assolutamente esserci quindi l'entrata nella catena alimentare di questa radioattività e gli effetti li capiremo più avanti sono state evacuate circa 200.000 persone e se il limite dato dai giapponesi intorno alla centrale di Fukushima è stato di sicurezza è stato di 30 chilometri alla fine voi pensate il danno che c'è però l'ambasciata americana in Giappone ha consigliato i suoi cittadini di stare ad 80 chilometri di distanza da Fukushima ecco giusto perché ci facciamo un'idea dei numeri le persone che devono evacuare devono trovarsi un altro lavoro un'altra vita totalmente i danni si pensa che gli investimenti che ci vogliono soltanto per riparare la zona del reattore ci vorranno più di 70 miliardi di dollari ma per diciamo ripulire tutta decontaminare tutta la zona si parla dai 200 ai 600 miliardi scusate di dollari questo è l'uomo che si avventura a fare un gioco molto più grande di lui questo è un uomo che guarda con che è concentrato soltanto a quello che lui sta facendo che non si guarda intorno che non si interroga che non capisce di essere parte di un principio più grande di essere una cellula di un essere molto più grande che questo magnifico pianeta e come cellule noi dovremmo collaborare gli uni con gli altri è stato è stato dimostrato dalla scienza medica che il corpo umano quando un organo è in difficoltà il resto degli altri organi tendono a cedere energia all'organo affaticato questo è come si comporta la natura questo lo sappiamo anche nel tempo fa ho avuto l'opportunità di fare una trasmissione sull'intelligenza delle piante questo è stato dimostrato anche per le foreste boschi e foreste si comportano come se fossero un unico essere le piante in difficoltà vengono sostenute specialmente attraverso gli apparati radicali di sostanze in particolar modo il glucosio che viene trasformato attraverso la fotosintesi colorofiliana si mantengono in vita perché di più quando siamo di più è più facile è meglio quasi che ci fosse un'etica dell'insieme che l'essere umano è veramente perduto ecco non lo so Massimo se 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 vuoi aggiungere qualche cosa ti ascolto no niente una breve considerazione conclusiva perché negli anni 90 quando a Radio Iso 103 appunto con il dottor Paglialunga ma non solo anche in altre trasmissioni che sentivo altri colleghi diciamo che parlavano dell'energia alternative ecco apro una parentesi questo potremmo magari su questo potremmo dedicarci una trasmissione chiusa parentesi ecco dicevo allora la scienza diceva che sono insufficienti tirano fuori un sacco di scuse non è come si dice non è vero sono costose sono tutte le risposte danno tutte le risposte più assurde insomma minimaliste sicuramente minimaliste esattamente hai detto giusto tu minimaliste questo è il termine proprio specifico esatto che le qualifica perfettamente oggi le stanno rivalutando allora ecco quindi io a volte dico stiamo attenti anche quando ascoltiamo certa scienza questo anche nel campo ad esempio della medicina e non solo perché a volte non ci dicono proprio le cose come stanno sta a noi fare delle ricerche purtroppo il tempo a volte non ce n'è però bisogna tutti gli ascoltatori usare la nostra testa usare il discendimento selezionare ad esempio il nostro telecomando da alcune emittenti televisive bravissimo capisci cioè è questo che bisogna fare alla fin fine e quindi dunque questa cosa qua ecco sulle energie alternative magari potremmo ritornarci con un'altra trasmissione ecco quando vuoi sono le 19.56 io avrei un breve aggiornamento delle notizie se vuoi aggiungere un qualcosa alviano guarda io spero di aver dato un po' di dati che possano essere stati utili a sensibilizzare e anche ad approfondire grazie a quello che mi hai chiesto tu ai nostri ascoltatori li saluto caramente ti ringrazio del tempo che ci date e ti restituisco la linea grazie e buonasera a tutti grazie dunque alviano api dell'associazione culturale il sicomoro collegato con Radio Science da Pordenone via Skype brevemente Sisma Ischia i cittadini di Ischia sono stati trattati come terremotati di serie C lo ha detto il vice premier di Mario parlando al consiglio comunale di Casamicciola in provincia di Napoli convocato in occasione del primo anniversario del terremoto registrato lo scorso anno nell'isola verde lavoreremo con il buonsenso non faccio promesse sui tempi ma gli ischitani avranno un governo amico se serve faremo anche un decreto per Ischia per accelerare tutte le procedure che attiverà il prefetto alla ricostruzione restano senza casa lo ricordiamo ancora pensate 2400 persone e fino ad oggi non si è mai sentito parlare di questa cosa qua almeno fino con l'ultimo governo per la prima volta con questo nuovo governo di oggi del 5 stelle iniziamo a sentire il discorso di Ischia con ripeto ancora una volta 2400 persone che sono ancora senza casa diciamo il 188 io ho il compito come dire le chiavi di chiudere l'ufficio di chiudere la trasmissione di oggi Veneto Oggi 20 nel mondo ringrazio Diano Appi ringrazio il nostro editore Rosario Moreno che è anche la regia rappresenta la regia centrale di Radio Science io vi parlo qui dalla mia testata pianetaoggtv.net di Venezia vi saluto vi ringrazio per la cortesia attenzione e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione in streaming di Radio Science TV buonasera avete ascoltato Pianeta Oggi eventi nel mondo trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione